Buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa oggi in diretta di domenica 24 luglio, che cose successe sui giornali? Io partirei da un dato, da un'informazione che ci dà oggi il Corriere della Sera sulla situazione dell'immigrazione, prendendo i numeri dell'Istat, il solito tema dell'immigrazione, il Corriere della Sera lo affronta sempre con una certa attenzione posto che oggi lo mette in prima pagina, col pezzo commentato da Fulbini, immigrati senza istruzione, la tesi del Corriere della Sera valorata da quei dati dell'Istat è che in Italia arrivino immigrati senza istruzione e quindi immigrati che potenzialmente sono meno utili al nostro paese, a differenza di quanto avviene in Germania, in Francia e in altri paesi in cui i loro immigrati sono laureati, mettiamola così, comunque sono decisamente più istruiti dei nostri, questa è la tesi del Corriere della Sera, la prima riga del pezzo è la seguente in prima pagina, non siamo invasi dai migranti, è una frase sbagliata, è una frase scorretta, è una frase che non ha alcun senso, perché si vuole sempre dare un cerchio alla botte, come si dice, una botta al cerchio e alla botte, vuole avere la moglie drogata e la siringa piena, oppure mettete voi il luogo comune che vi piace di più, è una stupidaggine, perché poi quando si va a leggere il pezzo in cui la tesi fondamentale, quella che io condivido, che tutti ovviamente condividono e poi vedremo i numeri esatti, che i migranti italiani irregolari peraltro per gran parte sono addirittura per un quarto analfabeti, non conoscono l'alfabeto, il tema fondamentale è quando si va a parlare di migranti, le statistiche dell'Istat come evidente non tengono in considerazione gli irregolari, cioè la gran parte delle persone che vengono in Italia non ottengono il diritto all'asilo o allo status di rifugiato, e allora di che cacchio stiamo parlando? Di che cavolo stiamo parlando? Il dato è ancora peggiore, c'è l'invasione e l'invasione è fatta da gente che non ha una scolarizzazione decente, ci sono entrambe le cose, quindi non c'è un dato di mancanza di invasione, c'è pure quella, c'è pure quella, il direttore dell'ISPI dice e fa un ragionamento sempre sul Corriere della Sera che dice che uno su quattro di questi immigrati, quelli regolari, non quelli che voi vedete alle stazioni che bighellonano, quelli regolari non hanno la conoscenza dell'alfabeto, non quello italiano, di qualsiasi alfabeto, sono analfabeti e tu che ci fai con gli analfabeti e ci ricorda poi un altro dato fondamentale incredibile che il 5% degli immigrati in Italia sono minori non accompagnati, immagino che questi siano di irregolari, ma comunque sia, il fenomeno raccontato da questi numeri è molto più grave di quanto si possa immaginare. Andiamo avanti sulle questioni più o meno politiche, quando tu vedi i sondaggi e oggi il Corriere della Sera ne pubblica un altro sul centrodestra, centrosistra, Movimento 5 Stelle e ti chiedi come mai il centrodestra vada ancora avanti e in particolare nonostante le minchiate catastrofiche di Forza Italia, penso per esempio a questa deriva animalista, tutti noi amiamo gli animali, ma pensare che ci sia un partito animalista mi fa sorridere, però nonostante queste derive non populiste, demenziali secondo me, ma Forza Italia guadagna e arriva al 15%, il centrodestra arriva al 35%, quindi supera abbondantemente il 29% del Movimento 5 Stelle e mi sembra dati simili del PD che sono in calo. Qual è il motivo? Il motivo è molto semplice, perché è molto più credibile il centrodestra rispetto al centrosinistra e forse anche il Movimento 5 Stelle nella sua battaglia contro questa demagogia sull'accoglienza che ci ha riempito la testa negli ultimi anni. Cresce Forza Italia, ma crescono soprattutto, lo nota oggi tutti i giornali da un po' di giorni, crescono soprattutto quelli che cambiano casacca, che stanno ritornando con Berlusconi perché probabilmente vince. Grasso, il critico televisivo, prende per i fondelli Enrico Costa e secondo me è in mano un po' ingeneroso, perché è vero che ha cambiato casacca, era di Forza Italia, è diventato alfaniano, poi è ritornato probabilmente in Forza Italia, ma il punto è che Costa lo ha fatto cedendo il suo ruolo di ministro, a cui molti ambiscono, mentre invece gli altri rimangono belli attaccati al proprio ministero. Polito, su Corriere della Sera, ci ricorda che in questa legislatura ci sono stati 501 cambi di casacca, c'è 324 parlamentari, 1 su 3 tra tutti gli eletti in Italia, che ha cambiato il partito rispetto a quello in cui è stato eletto, che qualcosa si debba fare, su questo certamente c'è da fare e ne parleremo a lungo nel futuro, perché di legge elettorale si sarebbe dovuto discutere dopo la sconfitta del referendum, a me mi sembra che di questa roba della legge elettorale il nostro Parlamento non sta discutendo perché è ben in altre vicende affaccendato come quest'altra follia dello Iussoni che sembra essere rimandata a settembre, speriamo per sempre. Manca l'acqua a Roma, è colpa di Trump, è evidente, perché oggi i giornali dicono che la mancanza dell'acqua di Roma deriva dal riscaldamento climatico, perché ruido? Perché è chiaro che tutti noi pensiamo non piove perché c'è il riscaldamento climatico e quindi manca l'acqua a Roma, ma io vi invito a pensare su delle questioni diverse, il momento in cui il lago da cui Roma prende i suoi 8000 litri al secondo di acqua, il lago di Bracciano è stato più basso, riguardava 15 anni fa, quindi si è riempito negli ultimi anni e poi si è svuotato oggi come specie di grande serbatoio per Roma, quindi 15 anni fa aveva dei dati più bassi, quindi in realtà non c'è un elemento di oggi come è fuori di dubbio in quello che sta avvenendo, ma c'è un percorso più ampio, uno potrebbe dire è proprio questo il riscaldamento climatico, allora vi chiedo e mi chiedo, com'è possibile che Roma abbia il tasso di dispersione degli acquedotti, bravo l'acqua, gli sprechi di Roma più alto di Italia? Com'è possibile che al 45% il tasso di dispersione contro la media dell'Italia 35% come leggete oggi sui giornali? E ancora, com'è possibile che i romani utilizzino i 300 litri di acqua contro i 245 che è la media nazionale? Allora, quello che voglio dire, prima di pensare a Trump, al riscaldamento climatico e a tutti questi grandi eventi, forse i nostri compiti a casa li dobbiamo fare, utilizzare l'acqua con serietà e soprattutto non sprecarla con i buchi negli acquedotti, ovviamente noi abbiamo pensato che l'acqua debba essere pubblica, res nullius, non ci saranno mai i soldi per rimetterli a posto, ci siamo contenti così. Cassese e Panebianco bisticciano sui principi della Costituzione perché Panebianco dice che la Costituzione è fatta da persone che non tutte aderivano ai principi di libertà, Cassese dice che non è vera, è una Costituzione di compromesso, ma non si può dire una cosa di questo tipo, io penso che stiano parlando della preistoria, ormai la Costituzione che non è la più bella del mondo, è la Costituzione dei nostri nonni, neanche dei nostri genitori, è superata dal mondo, che sta andando verso tutta un'altra direzione, oggi basta leggere i giornali della storia di Alex Cases, che voi dite ma chi cavolo è? È un signore che si è impiccato a 25 anni in un carcere a Bangkok, questo signore cosa faceva, oggi sui giornali, questo signore che si è impiccato in un carcere a Bangkok, era diventato milionario, gli hanno trovato 30 milioni di Euro attraverso il Dark Web, uno strumento che non è a tutti noto, ma che è pazzesco, per il quale attraverso il Web si possono fare shopping come Ebay, il suo social si chiamava Alpha Bay ed era una prese in giro di Ebay, si può comprare donne, prostituzioni, armi, droga, come è possibile? C'è una specie, ci sono una serie di programmini che fanno entrare in questa specie di rete nascosta come fossero i bassi fondi dei porti di anni fa, ci sono i bassi fondi della rete e con questo programmino entri nei bassi fondi della rete, non sei individuato, esiste privacy totale, non valgono gli IP, non ci sono i tuoi indirizzi, insomma la storia di questo signore che si è impiccato a Bangkok nasce dal fatto che viene pizzicato perché vuole rimorchiare su un sito internet e pubblica una sua foto con la Porsche dicendo qua in Thailandia si rimorchia con la Porsche e commette l'errore non di vanità, non di rimorchio, ma dire qua in Thailandia e lo beccano l'Interpol e l'FBA in Thailandia grazie alla sua vanità e alla sua forse sfigataggine perché solo con la Porsche riusciva a rimorchiare. Detto questo voglio dire che il mondo sta andando in una rivoluzione talmente ampia che probabilmente la nostra Costituzione e i nostri politici costituenti non potevano né immaginare né sanzionare. Addio alla Tobin Taxi in Europa, dice il sole 24 ore, invece l'Italia è la fenomena. L'Italia è l'unico paese insieme alla Francia che ha messo questa imposta assurda, cretina, deficiente, teoricamente sbagliata che si è inventato in un momento di liberal il signor Tobin, premio Nobel per l'economia immagino, è una liquida del 0,10% su tutti gli scambi fatti in borsa in Italia sulle società che hanno più di una certa dimensione, soltanto giornalista del Corriere della Sera che peraltro io stimo perché Moria Longa fa dei pezzi stupendi, ma che dà il senso del fatto che ci sia un'ideologia all'interno dei nostri giornalisti che dice che nella teoria è la più giusta delle tasse. No, caro Longo, secondo me anche in teoria non è la più giusta delle tasse, ho provato a scriverlo tante volte, fai un bellissimo pezzo, fai un grande lavoro, ti lasci sfuggire questo, come possiamo dire, retropensiero che è scorrettissimo. Poi ovviamente Moria Longo dice che poi nella pratica è stata adottata malissimo, ma l'idea che nella teoria si aggiusta una tassa sulle transazioni finanziarie per punire coloro che fanno transazioni finanziarie speculative da miliardi di Euro è soltanto il residuo ideologico di un mondo industriale che non riesce a concepire la finanza come ad esempio gestione del risparmio gestito che vale miliardi di Euro. Il risparmio gestito cos'è se non non si risparmi e come si tratta quel risparmio gestito? Attraverso le transazioni finanziarie. Le transazioni finanziarie e la speculazione non sono necessariamente un male, anzi nascono come una possibilità nuova, moderna per poter gestire il nostro risparmio. Che poi ci siano degli errori fuori dubbio, ma l'idea di inventarsi una tassa per punire le transazioni finanziarie è il residuo di una cultura socialista degli anni dell'Ottocento. Ma comunque sia, indipendentemente da tutto, concordiamo lungo e dio sul fatto che sia una tassa che praticamente sia una stronzata. E cosa succede? Che l'Italia riesce a introdurla col governo Monti, rende poche centinaia di milioni di Euro, fa scappare le sim indipendenti che fanno le transazioni all'estero invece che farle in Italia, e il resto d'Europa per attrarre gli investimenti che scappano da Londra, che ha fatto Brexit, e il resto dell'Europa che ci ha chiesto a noi di fare la Tobit Tax, sapete che dice? Niente, Tobit Tax, i fenomeni. Questo è il montismo, questo è Monti, la genialità di aver fatto i primi della classe ed essere i fottuti, un po' come aveva fatto con Frontex sugli immigrati grazie a Renzi. Mafia Capitale, due gli articoli che vi segnalo oggi, quello di travaglio sul fatto quotidiano è quello di Sgarbi che sono molto simili anche se ovviamente con lati e prospettive diverse. Travaglio dice, divertente questi PM che possono parlare come il caso di Pignatone che critica la sentenza, quando altri magistrati quando hanno parlato si riferisce al caso delle intercettazioni di Mancino con il Quirinale, negli altri casi quando i magistrati hanno parlato il CSM ha subito aperto un istruttore nei loro confronti, quindi se la prende con il fatto che sul Pignatone nessuno gli apre un'inchiesta come hanno fatto con gli amici suoi. Diverso il punto di vista di Sgarbi che dice, ma molto simile se volete, dice le sentenze non si discutevano così mi sembrava che fosse detto quando si guardavano Berlusconi, Pignatone dice Sgarbi sul fondo del giornale è come Berlusconi, cioè contesta una sentenza che a lui non è piaciuta e Roma è secondo Sgarbi una sede disagiata perché non ha la mafia come la Calabria o come la Sicilia e quindi i magistrati avrebbero voluto essere capi delle procure in una sede non disagiata ma una sede finalmente mafiosa in cui i loro poteri e le loro forze d'indagine fossero simili a quelle della Sicilia e della Calabria. Con questo sottile filo del paradosso comunque il pezzo di Vittorio Sgarbi è decisamente molto godibile. Oggi sul giornale direi che per oggi è tutto, vi auguro una buona domenica e noi ci vediamo domani. Ciao!